Simonetti mette in mezzo il gol di Carolyn Moller Parte Lisa Alborghetti, il cross teso, il colpo di testa, il grandissimo gol di Carolyn Moller Lancio in profondità per la velocissima Gloria Marinelli La conclusione, mamma mia, che gol ha fatto Parte Regazzoli, il cross in mezzo, il colpo di testa ed è subito il gol De Marinelli si accentra e calcia in porta, che gol che ha fatto, che gol che ha fatto Guarda che cosa serve, Ilaria Mauro tutta sola, trova il gol Cross morbido di testa, Gloria Marinelli, ancora lei Secondo palo, De Bever, ed eccolo il gol dell'Inter Tutta in velocità questa giocata dell'Inter Entra in area Marinelli, grande occasione per l'Inter Marinelli, eccolo qui In mezzo a questo pallone c'è Catelli E il gol dell'1-0 lo segna lei, Anna Catelli Ehi, non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Don't forget to subscribe our YouTube channel Hola amigos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube